Buonasera, sono in compagnia della mia amica di Ludomedia, Maria Elena! Oggi siamo messi male, siamo bene! Allora, stasera di cosa parliamo? Allora, parliamo di tutti quelli che hanno la partnership e fanno finta di essere dei mortazzi di fame. Tu cosa ne pensi? Eh, che ne penso? La gente dice un sacco di stronzatine! Eh, c'hai ragione, c'hai ragione! Per esempio, noi siamo nel sito di socialblade.com e se noi digitiamo un qualsiasi nome, uno a caso, tipo la Clio Makeup, possiamo vedere tutti i cazzi suoi, tutti i suoi guadagni. Vabbè, a parte che Clio Makeup non è una di quelle che dice che non guadagna, eh! A me non è sta zitta! Vabbè, basta vedere, cioè, scusa mia! Lei non dice nulla! Allora, la nostra amica Clio, praticamente, ha delle entrate che variano da 64 euro, 596 euro al giorno. Quindi, praticamente, questa vive di rendita, in poche parole. Al giorno? Cioè, specifichiamo! Al giorno, sì, sì, vabbè, questa è una stima mensile che comunque può variare. Dai, quanto varierà da 600 euro passerà ad 800, magari il giorno dopo, per dirne una. E niente, qui, praticamente, ha tutte le sue entrate tramite le visualizzazioni, tramite gli iscrizioni, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, questa Clio Makeup, insomma, può vivere effettivamente solo facendo video. Che comunque non è che sia un danno prendere dei soldi facendo video interessanti. Più che altro è chi, magari, è un partner di, diciamo, medio-basso rilievo, che comunque i suoi soldini li prende lo stesso, però fa finta che non prende un cazzo, in poche parole. Sono sempre soldi extra, tu comunque. Eh, sono sempre soldi extra, esatto. E, vabbè, tanto per farne vedere uno, vabbè, uno che seguo, che tra l'altro fa i video su Mac, vabbè, su Mac, su Apple in generale. E ai Giulio 32, che se vado a vedere, spero che ai Giulio mi perdonerà per farmi i cazzi suoi, ma d'altra parte questo sito lo conoscono quasi tutti. Se ne fa di tutti. Sì. Allora, il nostro amico prende, vabbè, qua c'è 0,82, 8 euro al giorno, per un totale di 298 euro all'anno. Quindi, insomma, sono quasi 300 euro all'anno di entrate, insomma. In due anni ti puoi comprare un iPhone, in poche parole. Insomma, non è poco. E, vabbè, e niente, insomma, adesso io non so questo nostro amico di Giulio se dice di morire di fame, però molti come lui che sono partner e che hanno gli stessi scritti e le stesse visualizzazioni dicono, insomma, che non si guadagna un cazzo. E secondo me, anche qua è una grande cazzata. Quindi, io ripeto, cioè, farsi soldini sui propri video non c'è niente di male. Diciamo che prendere un po' per il culo a chi ti segue dicendo che non si guadagna un cazzo è un'altra storia. Cosa dici? E tu devi darmi... No, hai ragione, stai dicendo niente, vai avanti. Scusa, tu mi devi dare sempre ragione. Eh, certo, ti preoccupare. Ti faccio tornare su Ludomedia. Allora. Oddio, no. Vabbè, comunque questo è giusto per dare una stima un po'. Vabbè, poi qualcuno di sicuro si andrà a fare i cazzi miei vedendo quanto potrò guadagnare io, sicuramente. Ma io comunque non potrei guadagnare granché. E vabbè, e questo è quanto. Comunque il sito poi ve lo potete andare a vedere e farvi un po' i cazzi di tutti, in poche parole. Vabbè, con questo diciamo che abbiamo finito. Invece andiamo a vedere un canale molto interessante dove tutti quanti potrete vincere un meraviglioso iPhone 4S. Ti interessa l'iPhone 4S a te? Cosa, scusa? Ti interessa l'iPhone 4S? Eh, io ce l'ho già. Ah, ok. Ecco. Vabbè, niente. Vabbè, puoi sempre mettere in palio il tuo, poi dopo io mi iscrivo. Giustamente, iniziamo col mio, no? Ma sì, tanto poi io mi iscrivo con 20 account a tutti i miei, poi dopo tu fai l'estrazione, io vinco e tu hai iPhone. E non ti do niente, infatti prendo visualizzazioni, che ne pensi? No, in pratica questo tizio che si chiama, mai dire Apple, a parte che la descrizione è tutto un programma perché dice, ecco il mega contest di questo anno per ringraziarvi a tutti per aver dato via un iPhone 4S 16 GB più bumper, per partecipare è semplice, basta iscriversi al canale, seguirci su Twitter e su Facebook, bla bla bla. Vabbè, a parte l'italiano che si fa un po' desiderare, come al solito, ecco, io sarei curiosa di sapere come questo mai dire Apple, che ha avuto su questo video 377 visualizzazioni, 42 mi piace e 3 non mi piace, tra cui uno mio, nel caso sappi mai dire Apple che io ti ho messo non mi piace, anche perché io ti ho chiesto che garanzie dai, e non ho mai cagato pari. Insomma, vorrei sapere, insomma, il tuo canale, che comunque è un canale normalissimo come può essere il mio, io non ci penso neanche a regalare un 4S, quindi non so, tu sarai milionario, 382 iscritti, 155.790 visualizzazioni video, tu regali un 4S per tutti i tuoi fan che ti seguono con tanto amore, a me sembra tanto... Beh, insomma, c'è anche chi è un buon samaritano. Eh, certo. Beh, sia. Ebbè, c'è chi è generoso, c'è chi ha l'anima da Padre Pio, dobbiamo darne atto, insomma, quindi, vabbè, a me sembra tanto una grandissima cagata per avere iscritti e visualizzazioni. Per diventare un futuro partner, semplicemente. Esatto, perché ormai la partner è dentro di noi, tutti vogliamo diventare partner, anche tu vuoi diventare partner, dillo. Ma se non sono manco iscritta. Ma chi se ne frega, ma tu devi già avere la partnership nella testa, tu devi già ragionare da partner. Ah, non so, è tanto tempo. Eh, non ci siamo proprio, ma, vabbè, va. Comunque, insomma, rinnovatevi un po', se volete fare iscritti, cari signori, sarebbe quasi il caso che inventaste qualcosa di nuovo, non lo so. Inventatevi, chiedate, non so, agli ometti, non so, una cena con il dopo cena con Belen, per dirne una. Cioè, non fate solo 377 visualizzazioni, ne fareste molte di più. Quindi, insomma, rinnovatevi, rinnovatevi, fate dei contest un po' più corposi e corpulenti. Ma, vabbè, comunque, vabbè, direi che tu te ne puoi tornare su Ludomedia. Ah, per favore. Alla serie come non facciamo sapere che ero io. Vabbè, dai. E, niente, io stoppo il video e ti ringrazio per aver partecipato a questo mio magnifico video. Sarai pagata, ovviamente. Eh, beh, quello mi sembrava ovvio, scontato, aspetto il tuo bonifico quando vuoi. Sì, sì, ok, non ti preoccupare. E mi raccomando, cerca di fare iscrivere un po' di gente di Ludomedia sul mio canale. Allora, stai attenta. Penso che lo chiuderesti dopo una settimana. Eh, Dio, poi non divento più partner. Vabbè. Hai visto. Eh, vabbè. Vabbè, dai. Allora, saluta. Di ciao. Eh, ciao. E niente, al prossimo video. Ciao, ciao. 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 Ciao.